Sono 491 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Sicilia con la curva dell'epidemia che sostanzialmente rimane invariata, così come le ospedalizzazioni, rispetto alla giornata di ieri. Sette le vittime con il totale dei decessi da inizio pandemia che arriva a quota 7.116. E' quanto si evince dal bollettino di oggi del Ministero della Salute. Il dato sui ricoveri dà qualche segnale di miglioramento. Stabile il numero delle persone ricoverate con sintomi in area medica, 351 come ieri, mentre cala il numero dei ricoverati in rianimazione, oggi 43, ieri 47, anche se ci sono stati due nuovi ingressi nelle ultime ore. Il tasso di positività però cresce, anche se di poco. Ieri era all'1,3%, oggi all'1,8% per via dei 26.376 tamponi processati. Ieri erano stati oltre 35.000. Tra le province resta Catania il territorio con il maggior numero di nuovi contagi, 139, Palermo 69, nuovi casi, Messina 93, Siracusa 49, Trapani 37, Ragusa 22, Caltanissetta 28, Agrigento 52, Chiudeenna con solo due nuovi casi. Nelle scuole siciliane intanto l'incidenza degli alunni positivi al Covid risulta dello 0,15%, sostanzialmente stazionaria rispetto al dato delle settimane immediatamente precedenti e in diminuzione rispetto alla prima settimana di rilevazione, quando era dello 0,17%. Lo dice l'ufficio scolastico regionale, riferendosi alle percentuali di alunni positivi nella prima settimana di novembre sul 92% delle scuole siciliane da infanzia a secondo grado. Su 632.867 alunni 951 sono risultati positivi, su 69.506 docenti solo 157 sono risultati positivi e su 18.347 impiegati ATA positivi sono 21. Per il personale docente si riscontra una variazione dell'incidenza dei positivi rispetto alla settimana precedente da 0,15% a 0,23%. Per il personale ATA si rileva un'incidenza pari allo 0,11% pressoché invariata rispetto alle settimane precedenti e in miglioramento rispetto alla prima settimana di rilevazione, quella tra il 20 e il 27 settembre scorsi.